Siamo qui con il mister del Barano, oggi una partita molto complicata per il Barano che è riuscito a trovare il pareggio nei minuti finali. Qual è il suo commento alla partita? La partita sarebbe stata complicata, lo sapevamo dall'inizio, sapevo che questa era una buona squadra. Poi non tutte le partite sono pulite, è stata una partita diciamo avendo subito gol quasi subito è diventata una partita un po' sporca, molto più sul piano agonistico che sul piano tecnico. Però poi fondamentalmente non è che poi nell'arco dei 90 minuti ne abbiamo subito più di tanto, anzi come ho detto sono partite che poi si complicano quando prendi gol subito. Però va dato atto ai ragazzi hanno fatto per me una grande prestazione, hanno avuto un altro step di crescita perché non era facile raggiungere il pareggio contro questa squadra su questo campo. Che cosa diciamo che comunque il Barano non è riuscito a fare oggi, a imporre il proprio gioco, a essere un pochettino più preciso ad esempio? Sì abbiamo fatto un sacco di errori tecnici sul passaggio, sulla fluidità di gioco ma come ho detto prima di queste partite ne troveremo tante. Quando abbiamo subito gol quasi subito, noi sapevamo, avevamo preparato pure per cercare di non fare falli fuori area di rigore, sapevamo che già hanno fatto un paio di gol su punizione, che calcia bene le punizioni. Abbiamo subito gol subito quindi poi si è messa la partita, si è messa su un piano agonistico più che altro che su un piano tecnico. Comunque lo ripeto, nonostante tutto abbiamo fatto una buona gara anche sul sottopiano agonistico, i ragazzi non hanno mollato di un centimetro fino all'ultimo minuto e ci hanno creduto nel pareggio fino all'ultimo minuto. Grazie mille